In A1 code per lavori in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, sempre in uscita a Firenze Sud incidente provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Pisa code per traffico intenso sul bivio A1-11 provenendo sia da Roma che da Bologna e code in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. Code per traffico intenso in uscita a Prato Ovest provenendo da Firenze. In FIPILI in direzione Firenze per lavori due chilometri di coda tra il bivio con la deramazione per Pisa e Ponte d'Era Est e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Verso Livorno code a tratti tra Scandicci e la Strassigna e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!